Per il primo turno della Coppa Campioni 80-81 andiamo a vedere Aberdeen-Austria-Vienna nella gara di Aberdeen del 17 settembre dell'80. Finisce 1-0 con il gol di McGee che vediamo al 31esimo. 1-0 per l'Aberdeen-Maya Bianca, la formazione dell'Austria-Vienna, che non riuscirà a pareggiare questo incontro nella gara di ritorno di Vienna del 1 ottobre dell'80. Non andrà oltre lo 0-0 in casa. Guardate che occasione clamorosa che spreca la squadra austriaca. Qui nel secondo tempo anche una traversa per l'Aberdeen. Il replay evidenzia che non era gol. Nella gara del secondo turno l'Aberdeen incontrerà il Liverpool e perderà sia l'andata sia il ritorno con un complessivo 5-0. Guardate le occasioni ancora per l'Aberdeen. Altra traversa. Finisce così 1-0, poi 0-0 al ritorno.